E' stata istituita al Policlinico Universitario di Messina l'Unità Operativa di Chirurgia del Peritoneo e del Retroperitoneo, la prima non solo in Sicilia ma anche in tutto il Sud e una delle pochissime esistenti su tutto il territorio nazionale. La responsabilità dell'Unità Operativa è stata affidata al professor Antonio Macri, ordinario di Chirurgia Generale e direttore della Scuola di Specializzazione dell'Università di Messina, che tratta queste patologie ormai da circa 20 anni. L'Unità Operativa svolge la propria attività nel campo dei tumori del peritoneo, sia primitivi, mesotelioma, carcinoma sierosopapillare, che secondari, carcinosi peritoneale e del retroperitoneo sarcomi. E' stato dimostrato, infatti, spiega Macri, che alcune patologie di tumori, come quelli del colon e dello stomaco, considerati big killer oncologici, potranno sviluppare nel 40-70% dei casi una diffusione peritoneale, evitabile in un numero consistente di casi mediante l'applicazione di tecniche all'avanguardia. L'Unità Operativa si avvale infatti delle tecniche più evolute nel campo della chirurgia oncologica addominale, quale la chirurgia citoriduttiva associata alla chemio-iperterapia intraperitoneale e la chemioterapia pressurizzata mediante approccio laparoscopico, che consentono sostanziali miglioramenti della sopravvivenza e della qualità di vita dei pazienti. I sarcomi retroperitoneali sono trattati, invece, mediante chirurgia compartimentale, raramente associata all'IPEC, che consente tramite resezioni multiviscerali un miglioramento prognostico rispetto alla chirurgia tradizionale. L'Unità Operativa, riconosciuta dalla Società Italiana di Chirurgia Oncologica come centro di riferimento per la cura dei tumori peritoneali, lavora in sinergia con le principali istituzioni nazionali ed internazionali impegnati nella cura dei tumori addominali.